ragazzi io sto iniziando il programma si chiama oggi mi hai trovato ok quando io dico oggi mi hai trovato abbiamo iniziato ci siamo non taglio nulla con il maiale non butterò via niente ok ok oggi mi hai trovato oggi ha trovato fabrizio simoncioni detto il simoncia e daniele bagni detto barney eccoci qua eccoci qua voi due siete qua oggi ad alghero e sardegna perché siete legati alla storia dei litfiba tutti e due non andrò ad elencare il vostri curriculum perché altrimenti l'intervista è finita qua cioè questo qui questo signore qua ha registrato la metà dei dischi di tutta italia praticamente più o meno sì veramente ma parliamo missa stringendo 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 il cerchio di quello per cui siete venuti qua ovvero per suonare mangiare bere mirto suonare suonite stasera ma dipende se riesco arrivare stasera ok va bene quindi parliamo di cibo come avete mangiato oggi ma suoneremo a suonerete così perché vi annoiate vero a un mirto e l'altro tra insomma un porceddo e l'altro se dobbiamo smaltire po le calorie io pensavo fosse qua come ragazzi immagini diciamo per la bellezza poi barney sì ma poi vi stavate annoiando fotomodello no perché allora voi siete qua perché dovette celebrare questo album qua in cassetta non so se con la luce si vede comunque è spirito dei litfiba questo se l'è suonato barney che poi me lo firma e questo se l'è registrato il simon cia che poi me lo firma non so uno dei 6 che ha registrato per il litfiba da che iniziamo ho sentito prima a pranzo che qualcuno qua ha deciso che il bar ne entrasse nel litfiba magari non avevo questo potere diciamo che io e barney barney era venuto a lavorare da noi alla era responsabile audio della era di firenze in tutti i progetti che passano dalla ira passavano per i miei father diciamo per il mio mixer e lui era venuto a suonare all'epoca con paolo belli che stava realizzando il suo primo disco da solista dopo i ladri di biciclette ovviamente e a me personalmente colpì molto questo musicista che era veramente molto in realtà erano due c'era lui e cristiano maramotte le chitarre entrambi veramente molto bravi molto molto bravi a quel periodo c'erano i litfiba che avevano intenzione di provare a cambiare la line up dei musicisti e io suggerì caldamente ragazzi bassista sarebbe questo barney che non è proprio niente male provatelo e da quanto pare io ho rovinato la vita ma ti ha rovinato la vita daniele ha cambiato la mia vita e allora io fino a quell'epoca ero già musicista suonato appunto parlava di ladri di ciclette paolo belli quindi avevo già avuto la soddisfazione di registrare in dischi che ha avuto successo ma con il litfiba ho conosciuto il rock and roll e quindi posso dire che il rock and roll non l'ho inventato io ma me ci sono trovato dentro egli è anche piaciuto questo e quindi dopo ci sono quindi dopo ho continuato a suonare con piero nella insomma nelle varie nei vari periodi sia con il fiba che la sua carriera solista per 18 anni quindi ammazza quindi ti sei trovato bene diciamo io sono stato circa 800 volte con il fiba 300 più o meno quindi è un'esperienza musicale che auguro qualsiasi musicista di poter lavorare con gli artisti per tanto tempo e avere soddisfazioni incredibili ecco questa è la mia foto proprio di spirito esatto 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 poi il mio basso pedulla il buon marco degli anni stema ci procurerà una penna vero marco sì anche un penna vero quindi il mio basso pedulla e che ho portato anche questa sera e avevo secondo me avevo anche la camicia che ho portato la stessa camicia esatto la stessa camicia quindi non butto via nulla ecco guardate in diretta ah ecco Daniele firmerà la mia cassettina questa io questa qui io l'ho presa il giorno stesso in cui è uscita sono andato e ho comprato la cassetta quindi è anche questo l'ho preso il giorno stesso in cui è uscito quindi adesso passiamo dalla parte di Fabrizio del simoncia e facciamo firmare la ciodrom perché tu hai registrato dove si vede perché tu hai registrato sia questo che anche altri album che abbiamo messo io con il fiba ho fatto sono entrato la prima volta con loro ci siamo riconosciuti con no non trovo pirata con un singolo che era il tempo di morire una cover dei battisti per una compilation che si chiamava union per la ccd loro erano artisti ccd però erano veramente all'inizio ancora tirata non aveva fatto l'esplosione mediatica che poi avrebbe successo avrebbe ottenuto quindi ancora erano nel limbo fra indie e mainstream e quell'anno lì dopo mi confermarlo per registrare il diavolo quindi io feci il diavolo da lì in poi è storia e io ho fatto il diavolo sogno ribelle terremoto la ciodrom e poi utopia io ad esempio io ad esempio raccontato a loro ai ragazzi degli anni stemma che io gli tv bagli ho conosciuti con il diavolo e poi sono andato indietro come tutti bravo bravo è quindi insomma ma poi tu hai lavorato anche con tantissimi altri artisti nel livello della buene grida cinque album di collega buio fatto cinque album con lui e ho suonato i tastieri dal vivo dal 98 al 2005 quindi da radio freccia compresa fino a nome cognome compreso mi ha fatto radio freccia fuori miss mondo fuori come va giro d'italia e nome cognome non ha fatto niente ragazzi il disco mio quando lo produci parliamole allora daniele invece tu stasera che al poco loco adesso se io riesco l'intervista uscirà prima se no siccome anche io stasera vengo a sentirvi quindi magari potrebbe uscire a concerto già venuto però comunque sia la cosa è curiosa sia perché ci sarà stasera e perché no anche perché chi non ha prenotato non ci sarà visto che sold out userai gli stessi vestiti che usasti nel 1995 per lo spirito tu sì in effetti ho provato i pantaloni ti entrano ancora e non li ha mai lavati anche la caluta anche la camicia no lo vado però vi è qualche motivazione igieniche niente e quindi mi è venuto in mente a caspita vista che la celebrazione di spirito porto lo strumento che ho usato per registrare quindi il mio basso pedula cinque corde e ho anche i vestiti che usavano lo spirito tuo quindi è l'occasione giusta per rimettervi ok ciao è così quindi bene sarei vestito uguale se che io nel 1995 avevo ancora 17 anni e voi questo io lo devo raccontare e il litio fiba hanno suonato allo stadio di sassari di sassari allora io ero lì in fila dalle tre del pomeriggio probabilmente c'era anche marco e cosa è successo dagli otto e mattina marco ecco marco era lì dalle otto e mezza ad esempio io sono arrivato alle tre del pomeriggio con gli amici ed eravamo tutti li attaccati al cancellino quando hanno aperto il cancello siamo siamo entrati tutti di corsa per raggiungere le le prime file indovinate chi è lo stronzo si può di sì si può dire mettere il programma il miglioro lo stronzo che è stato fermato dalle guardie per essere perquisito ragazzi sono io ho perso tipo quattro file nel frattempo ho capito ma voi mi avevate detto sesso droga rock'n'roll e poi invece era tutta una truffa no mannaggia quanto mi sono divertito quindi se stasera qualcuno tenterà di buttarmi fuori perché io mi agiterò al concerto daniele mettici una buona parola farò del mio era una radia mi sono messo a pocare come un dannato io ho 17 anni una radia ti fa saltare in aria e la guardia mi ha detto bello tranquillo infine un'ora d'aria è un groove da poco il final di un'ora d'aria è trascima età e ragazzi ragazzi è abbastanza era il proprio gruppo che andavano in quel periodo abbastanza americano ma essendo riparare che produceva il disco quando era grande bravo ma durante la registrazione vi ha indirizzati lui anche sul mondo di suonare oppure lui si è limitato ad incidere senza dare cioè lui era proprio artistico quindi ci dava un attimo la direzione rispetto agli arrangiamenti quindi in spirito chiedeva barri tu ti giro di basso faresti io opponevo ok franco la batteria a questo giro quindi praticamente c'era questa abbiamo fatto questo tipo di produzione che il produttore artistico questo giusto si muocia anche tu hai prodotto a diversi ad una sassari c'era anche lui a tu c'eri a sassari nel 95 quel giorno ma stavi registrando l'aciodrom no non a sassari però era il periodo in cui si stavano registrando alcuni live ma in realtà io come ruolo avevo soprattutto i primi concerti di ogni tour pirelli voleva che io andasse a fare il controllo supervisione audio avendo fatto i dischi dovevo verificare che il suono dal vivo corrispondesse più o meno a quello del disco quindi in realtà quindi andavo lì ascoltavo mi divertivo dicevo va bene fine che figo si può fare ancora questo lavoro mi propongo vacanza pagata fighissimo molto bello era la seconda vacanza la prima era quando mi facevano suonare nei concerti di poligabue o con loro gli fibastesi eccetera in realtà io ho un aneddoto carino che non credo che sappia neanche guardarmi perché è successo prima che lui entrate durante il terremoto tour in realtà era la seconda data del terremoto tour al forum di assago e io avevo con antonio aiazzi avevo aiutato la programmazione tutto il set di tastiere tutti i cambi di scene è tutto perfetto ovviamente avevamo fatto una settimana can in francia per le prove generali un concerto a cano un concerto trieste improvvisamente a milano secondo pezzo vedo antonio aiazzi che alza un sopracciglio che per lui è un problema enorme c'è qualcosa che non va vado sul palco gli si era bloccato completamente tutto il sistema del midi quindi ho fatto l'intero concerto di del forum di assago in terra sotto antonio aiazzi cambiati tutti i pezzi di tastiere temporali perché io conoscevo le parti come luce le abbiamo costruite praticamente insieme per il periodo lì e quindi ero lì facevo quando antonio doveva cambiare un patch e non l'avevo visto c'era questo scemo sotto gara che ero io e da lì in poi è stato divertente più che divertente fantastico qualche ricordo particolare un po ci è andato sempre tutto bene o qualche casino benissimo ho usato 18 anni abbastanza bene no ma qualche serata qualche aneddoto curioso qualche ecco erano molto belle le date le ultime date di turno le ultime date di turno c'erano le date di scherzo cosa si faccia con particolare affetto si può dire affetto se non divertito no che eravamo insieme in svizzera e quindi non sapevo nulla e a un certo punto succede che e mentre suoniamo l'ultimo brano e probabilmente la tanga 6 non sembra tanga 6 euro secondo sento qualcosa nella schiena e non mi accorgo che un rodi mi attacco una corda e poi mi cominciano a tirare indietro perché mi hanno fatto uscire dal palco sono quasi caduto questi erano gli scherzi però non so chi è l'ideatore che era stato l'ideatore che posso raccontare quello che hanno fatto a me nell'ultimo tour ecco e io suono da sempre proprio un mio mio problema io suono scalzo sul palco non devo indossare calzature perché il mio setup di tastiere prevede molti pedali allora ho passato tutto il tempo guardandomi i piedi per capire cosa premere o devo avere sensibilità ok però questa cosa ha sempre creato un po' di ilarità nei compagni di viaggio e di merende ora quella che doveva essere l'ultima data dell'ultimo tour dell'Itfiba dell'ultimo girone era Andorra in realtà non era poi l'ultima perché poi abbiamo fatto la parte europea e il gran finale a Milano ma è successo che io arrivavo al palco con le ciabatte in ciabatte perché chiaramente dal camerino al palco soprattutto le date estive c'è la ghiaia cioè passi davanti di posto quindi lasciavo le mie ciabatte dietro nel retropalco poi andavo scalzo alla postazione tastiera e suonavo il concerto finivo prendevo il mio computer le mie scarpe andavo via ok l'ultima data sono andato a prendere le mie scarpe non c'erano le scarpe? non c'erano erano state incollate nooo mi avevano incollato le sciabatte ci sono filmati dimostrativi e anche foto incollate con colla bicomponente a una piastra i palchi sono componibili sono delle piastrelle di alla 50 per 50 e diciamo con queste piastrelle costruiscono palchi per chiunque quindi tutt'oggi c'è in giro in qualche palco d'Italia una piastrella con due ciabatte le fotografate mie inamovibili perché sono diventate un blocco unico ma non hai pensato a prendere le faccio a prendere le faccio un quadro in realtà è un'installazione è bellissima infatti l'ho fatto autografare cioè la data è tutto però sono due due sì le sciabatte del simone poi dopo il capato vi faccio vedere il video con Ghio che ancora ride con le ciabatte poi erano comprate recentemente anche costose non erano delle infradite erano ciabatte serie non ricordo se erano a Bic e Bercs comunque una marca importante è rimasta in giro per l'Italia allora c'è caso che che ne so Elisa sul palco a un certo punto in ciampanele ciabatte mi fa la causa giustamente allora non voglio rubarvi troppo tempo perché so che avete le prove e c'è Marco che già mi sta guardando un po' male io faccio una domanda a tutti che non è una domanda ok che sarebbe questo? di dare un consiglio ok a chi volete voi su quello che volete voi ma penso che sia magari qualcosa sulla musica sulla passione no? cosa dici Daniele? vuoi consigliare? io guardo quel poco che ho capito della vita della mia vita è che quando è possibile nella vita bisogna sempre vivere con entusiasmo quello che si fa se si ha la fortuna di trovare un lavoro che si fa che piace vivrò con entusiasmo avere sempre voglia di di conoscere persone nuove di imparare anche dagli altri perché c'è sempre da imparare quindi è una cosa che ne avevo sentito parlare però ho capito che è molto importante ed è così ed è così ed è così è vero è così è così la curiosità e tu Fabrizio? invece non hai imparato un cazzo della vita ancora quindi si sta ancora lavorando su questa cosa no? però sono molto d'accordo su tutto quello che ha detto lui nel senso che io tutt'oggi nonostante che ho più di 200 album all'attivo ho tanta carriera ancora ogni volta che vado in studio a fare un lavoro che sia per una band sconosciuta che sia per un artista importante eccetera il mio approccio è sempre e lui lo sa bene col sorriso divertendomi io fondamentalmente faccio questo lavoro perché mi diverte quindi il consiglio è divertitevi osate non cioè non cerchiamo scorciatoie perché tanto non ci sono se vuoi arrivare in un certo punto in un certo modo devi fare il percorso necessario fallo col sorriso divertiti alla fine i risultati arrivano sempre che dire grazie ragazzi allora ci vediamo stasera al poco locco e niente io penso che piangerò pogherò e non so state attenti perché potrei saltarvi anche addosso a un certo punto grazie mille lui entra ah se stai formando non so se mi fanno entrare sì ok non lo faccio pure stanno a mettere all'organizzazione ma sei sicuro che vieni sei certo allora ragazzi io vi devo dire una cosa mi hanno chiamato ieri sera al locale ma sei sicuro che vieni e io certo che vengo perché che cazzo ma perché a me ma perché vieni ma perché lo chiedete a me no perché secondo me la guardia è la stessa che mi bloccò nel 95 sì sono stati d'accordo la stava fattendo brutti ma stanno guarda che era l'utile cosa che volevo fare che ti ringrazio eh ma io mi metto capellino cose ok dai allora dal Simonce dal Barni un saluto e anche dagli Anistema che sono qua in vostro fatti vedere Marco ciao ciao vieni 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 guarda guarda chi c'è eccoli stasera spacchiamo il culo tanta roba ragazzi lo sapete abbiamo fatto le prove mamma mia ma io lo pubblico romani questo video quindi romani sapranno che chiaramente è spaccato il culo tanto è sold out quindi quindi ormai ciao a tutti ciao 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 ciao